Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo. Nella giornata di mercoledì arriverà l'anticiclone ribattezzato di San Valentino che porterà sole e un rialzo termico sull'Europa centrale e anche l'Italia mentre il vero inverno resterà relegato sull'Europa orientale. Abbiamo detto dunque che anche per l'Italia sono previste condizioni di bel tempo e infatti avremo sole prevalente un po' su tutta la penisola con al più qualche banco nuvoloso sparso. Il tutto accompagnato da un deciso rialzo delle temperature massime con punte di oltre 16 gradi in particolare su tirreniche ed isole maggiori. Andiamola nel dettaglio del nord Italia che vedrà appunto condizioni di bel tempo su tutti i settori con al più qualche foschia o banco di nebbio sulla Val Padana notte e tempo al primo mattino. Spostiamoci al centro dove la situazione non cambia con cieli sereni o poco nuvolosi al più qualche foschia o banco di nebbio anche qui sulle vallate interne. Andiamo infine a sud e sulle isole con tempo in prevalenza stabile e soleggiato qualche nuvolamento ancora possibile lungo i versanti adriatici sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna specie orientale ma senza rischio di precipitazioni. Con questo è tutto aggiornamento in tempo reale sull'app gratuita di Trabi Meteo.